Un brevissimo saluto, poi Gino ci introdurrà a questa giornata molto densa e molto impegnativa. Le due considerazioni che voglio fare salutandomi sono queste. La prima, pervenire a rispondere agli attraversamenti complessi che stiamo vivendo nei termini della creazione di spazi comuni di convivenza. Per le aree da cui colleghiamo tutti noi, che è un po' la rete che si sta strutturando attorno alla situazione di spazio comune, è importante avere spazi di riflessione e di parola. Pur con la consapevolezza che l'esperienza in atto riesce a stare nella parola fino a un certo punto. Sfugge sempre un po' in avanti. Noi abbiamo parole costruite sulle esperienze già condotte e sulle interpretazioni della realtà che abbiamo costruito in passato. Poi se riusciamo, viviamo delle esperienze che, essendo più impresa diretta con la vita delle persone, con la vita delle famiglie, con le storie di fragilità e di incertezza, ci sono anche le storie dove il nuovo e il nascente si dà, viviamo esperienze che solo in parte riescono a essere dette da quelle cose. non è semplice vivere questo scatto. Io direi che la giornata di oggi e di domani è anche quella del 26 che vivremo a Milano e sono spazi nei quali provare ad avvitare questo scatto per impedirci, per quanto possibile, di interpretare la realtà attraverso le parole consolidate nel passato, per provare a cercare dalle parole che Rai da mi racconti e quali siamo venuti. e anche delle aree, come dire, dell'impresa sociale, dell'iniziativa sociale dal basso e anche delle nostre aree, il rischio, il rischio di costruire strategie di modifica della realtà. Quindi, questo rischio, questo rischio dobbiamo vigliare attentamente. non basterebbe questo per dare una grande resistenza di spazio comune. È uno spazio di veglia per stare attenti a che l'ansia che ci viene nel vivere questi momenti di attraversamento è l'ansia che ci viene di scarso controllo sulla realtà ma ci porti appunto a utilizzare sempre l'idea percorso nel modo di pensare, di interpretare e soprattutto di agire. Quindi, anche la perdita di spazio, faremo oggi in differenze che abbiamo ritenuto significative per rinforzare le trasformazioni che si danno dentro l'iniziativa sociale dal basso, dentro le politiche, dentro gli incroci tra movimenti di coscienza, intenzionalità sociali, forme organizzative. Stiamo lavorando su questo incrocio. Da riforma sociale a nuove consapevolezze e alla costruzione di stili di vita che sono in parte sono presi da una riflessione consapevole. Questa è la delicadezza, la leggerezza, un po' della situazione che stiamo ormando. Ecco, dire questo dentro i racconti che sentiremo oggi sarà provare a vedere cosa si nasconde dentro questi racconti al di là del racconto che verrà fatto. Questo è un po' il tentativo particolare. È una specie di esercizio di esposizione. Nel senso proprio della ruota degli esposti, perché c'era una volta nel monastero l'esposizione in questo senso. Non l'esposizione delle petrine bellissime che abbiamo spirciato qui dal centro di parte. No, no, proprio l'esposizione della ruota degli esposti. Ma tant'è, questo è il nostro tempo. Entrarci e restare esposti, come dire, facendoci compagnia e cercando e riflettere insieme può essere un buon modo di entrare nei tempi nuovi che si annunciano.